La sfida per le organizzazioni non profit oggi, parlando di fundraising, è trovare delle strade nuove, innovative e degli strumenti operativi nuovi per stare di fronte a uno scenario che sta evolvendosi, che sta cambiando molto, uno scenario destabilizzante per loro. Cambiare vuol dire innanzitutto considerare il fundraising non come un'attività di raccolta fondi, ma come un'attività relazionale, finalizzata a creare delle relazioni di fiducia con tutti gli interlocutori di un territorio. Cambiare significa anche iniziare a ragionare in termini di pianificazione strategica, quindi il fundraising non come semplice implementazione di una strategia, ma una strategia inserita in un processo che parte da un obiettivo molto chiaro, individua una strada operativa, conduce a un risultato che sarà sempre oggetto di valutazione in itinere ed ex post. Cambiare significa investire. Chi fa fundraising deve essere una risorsa, dipendente o volontaria che sia, che però ha una professionalità specifica, che ha delle abilità specifiche, per cui è una risorsa che possa investire anche tempo e spazio. Ecco, queste sono le tre parole chiave legate al fundraising, relazioni di fiducia, pianificazione strategica e investimento, che possono davvero guidare un cambiamento in questo momento importante.